In occasione di questa importante giornata che si è tenuta ieri, noi purtroppo giochiamo sia oggi, giorno dopo e domani, abbiamo deciso con tutti i dirigenti della Parabolo di Milostuni di sensibilizzare il più possibile il problema e le conseguenze di questa piaga sociale per diversi motivi, sia per testimoniare la nostra solidarietà ed essere vicini a tutti coloro che hanno subito violenza femminile, minori, più o meno una violenza in genere e per quello che è successo al nostro mondo qualche mese fa, il mondo della Parabolo dove una tragedia familiare è scaturita nella perdita e nella scomparsa di un nostro arbitro, la signora Federica De Luca e il suo piccolo Andrea e sia per spiegare ai nostri ragazzi, ai ragazzi della Parabolo che saranno gli uomini del domani, le conseguenze che porta un gesto violento, non è la risoluzione dei problemi ma l'inizio di un lungo e complicata tragedia e pertanto abbiamo ritenuto opportuno sensibilizzare un po' i nostri ragazzi in primis e poi anche anche il nostro movimento su questo problema e speriamo che qualcosa sia arrivato.